La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati, eccoci alla nostra rassegna stampa. Partiamo con il mattino in apertura. Positivi, Green Pass in Tilt, la denuncia dei medici di famiglia in Campania, 50.000 infetti con il certificato verde valido. Nuovo picco di contagi, salgono i ricoveri, l'Organizzazione Mondiale della Sanità di Ciammarzo, metà degli europei con la Omicron. Lotta senza fine al virus, c'è il vaccino antivarianti, quarta dose in primavera. Centropagina con la fotonews, l'esempio di Davide, innamorato dell'Europa, Dio a Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Rimaniamo sul centropagina con la cronaca, le mani del clan sulle scommesse, scacco alla banda, Salerno, business da 5 miliardi, con a capo il figlio del boss, 33 arresti ieri. Di taglio basso, Schettino e la paura a bordo che nessuno ancora valuta, concorda dieci anni dopo gli stress test sui capitani. Lasciamo la prima pagina del mattino, andiamo a vedere in primo piano l'avanzata del virus. Crescono morti e ricoveri, l'OMS, metà degli europei con Omicron in due mesi. In 24 ore altri 800 posti letto occupati, Friuli, Marche e Trento sono già in crisi. In Italia il record di nuovi casi, 220 mila, Lombardia, noi diventeremo arancioni. E questi dati, in soli 24 ore ieri in Italia, altri 798 letti sono stati occupati da pazienti covid. In una settimana l'incremento dei ricoveri è stato del 31%, portandoci a 18 mila, 744. Drammatico il numero dei decessi, 294, non se ne contavano così tanti in un giorno da fine aprile. Il dato dei nuovi casi, 220 mila, 532, è molto più alto, ma comunque a fronte di 1 milione 300 tamponi, 300 mila tamponi con un tasso di positività che si sta stabilizzando al 16%. Ieri, tra l'altro, si è alimentato il dibattito sull'opportunità di non diffondere più il numero dei contagiati ogni giorno, rendendo il bollettino settimanale. Per il virologo Matteo Bassetti il report serale non dice nulla e non serve a nulla. Secondo Donato Greco del Comitato Tecnico Scientifico, sarebbe un'ottima idea far diventare settimanale il bollettino. Al Ministero della Salute però, per ora, non hanno intenzione di modificare la comunicazione dei dati, anche per garantire trasparenza. Lasciamo questa pagina, rimaniamo sul mattino. Le mosse del governo via ai vaccini in classe, hub anche nelle scuole. Il ministro Bianchi accelera i tempi per fronteggiare l'emergenza contagi. C'è l'ipotesi di prorogare a luglio le lezioni se si perderanno delle ore. Il vaccino arriva a scuole, le lezioni, se necessario, potranno allungarsi nel mese di giugno. Le intenzioni del governo di tirare dritto sulla scuola in presenza sono chiare. Gli alunni devono stare in classe il più possibile e per farlo in sicurezza bisogna puntare sulla campagna vaccinale, quindi soprattutto su quella dei più piccoli, partita solo a metà dicembre e ancora indietro in termini di copertura. Sono pochi, infatti i bambini giunti già alla seconda dose. E allora per accelerare, per andare incontro alle esigenze delle famiglie, si potrebbero portare gli hub vaccinali all'interno degli istituti scolastici. Non sono impensabili, ha infatti spiegato il ministro dell'istruzione Bianchi in un'intervista alla stampa. Il settore commissariale sta lavorando, ma occorre distinguere la situazione dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni, dove si tratta di completare i cicli vaccinali, e quella dei bambini più piccoli, dove stiamo ragionando di portare il più vicino possibile le strutture per la vaccinazione, sulla base dell'esperienza pugliese. Rimaniamo su questa pagina. Campania, dopo il Tar, aule e mezze vuote, sindaci ancora in trincea, daddin 70 comuni. Napoli assenti nel primo ciclo, il 30% degli alunni, il 50% nel Casertano, a Salerno 7000 restano a casa. Andiamo avanti. Rimaniamo ancora sul mattino. Cambiamo argomento. La partita del Quirinale. Letta, Mattarella bis, sarebbe il massimo. Idea a ventino, anti-cavaliere. Il segretario del PD non ha perso le speranze, serve un presidente al di sopra delle parti. L'ipotesi di far uscire Edem dall'aula per stoppare Berlusconi, asse con Conte. Finché c'è Berlusconi in campo, inutile fare nomi. È tutto bloccato. Enrico Letta sceglie una linea attendista di fronte alla prova muscolare del Cavaliere, che almeno per ora non mostra alcuna intenzione di farsi da parte. Del resto, mai come in questa occasione, il PD arriva alla prova del Colle in una posizione di debolezza. In Parlamento siamo al 12%, non la maggioranza, allarga le braccia il segretario Dem che ieri a causa della scomparsa di David Sassoli ha cancellato la riunione della segreteria che avrebbe dovuto discutere proprio di Quirinale. Se ne parlerà domani in direzione. E lasciamo con questo il mattino. Andiamo su la città. In apertura si parla di Covid. Il ciclone Covid cambia pelle agli ospedali. Troppi contagiati hanno bisogno di assistenza, gestanti infetti, dirottati a ballo, pazienti ortopedici e chirurgici ad Agropoli. Doppio parto col virus a battipaglia, il reparto è nel caos. E la regione pasticcia con i dati. Più di 9.000 casi, ma ci sono errori. Centropaggina, rebus, scuola, dad prolungata, pressing sui sindaci, motivate gli stop. La protesta, superiore in rivolta agli studenti a casa, troppi pericoli. Di lato, mercato Sanseverino, affari miliardari con le scommesse, preso Cirillo Junior. Salerno, museo del falso, vincoli ignorati, vendita al rischio. A Eboli, escalation di furti, quinto negozio visitato dai ladri. Albanella, cadavere trovato tra piante d'olivo, non è suicidio. Poi c'è lo sport, salernitana, Fabiani, addio, Iervolino, punta tutto su Sabatini. Verso la Lazio, Colantuono sorride, Ruggeri in gruppo e poi il colpo. Cavese, c'è Banegas, mi manda, di Bala. Di taglio basso, sanità e burocrazia. Manca una firma, niente cure, ferma da sei mesi la terapia di un bimbo costretti a pagare. Le maglie della burocrazia e i disagi provocati dal Covid finiscono per penalizzare chi con grande fatica cerca di avere cure e certificazioni sanitarie. E alla fine, viste le lungaggini affrontate, spinge tante persone ad affidarsi ai privati, a sborsare soldi per garantirsi comunque l'assistenza. La vicenda che riguarda un bambino salernitano affetto da DSA. A Battipaglia, ex macello nel degrado, i fascicoli tra i rifiuti. Con questo lasciamo la città, ci spostiamo sul quotidiano del sud. Anche qui in apertura c'è il Covid. Alla regione giocano con i dati. Superficiale conteggio degli infetti e l'unità di crisi ammette gli errori. Intanto il prefetto russo chiama i sindaci e chiede di riaprire le scuole. 3.000 i positivi ieri in Campania, ma inseriti anche i tamponi antigenici. Centro pagina. 33 arresti. Il capo era Luigi Cirillo, la più grande centrale del gioco, d'azzardo con giro di 5 miliardi e sede a San Severino. Di lato la dirigente Ginevra De Maio, studenti in aula, presidi schierati con il governo. Poi piattaforma off, gravi disagi per vaccinarsi, sold out gli hub del capoluogo. Lo sport salernitana e rivoluzione, Walter Sabatini già a lavoro. Ordine pubblico. Evaso arrestato a Baronissi, fermo in costiera per ladri di moto. E a Cava dei Tirreni, lavori in centro, alla sbarra tecnici e vertici comunali. Rimaniamo sul quotidiano del Sud. La politica corsa al Quirinale, eletti i primi delegati regionali. In Lombardia il Movimento 5 Stelle scavalca il PD. Inizia a delinearsi il quadro dei 58 delegati regionali in vista dell'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. Valbia il 24 gennaio alle ore 15. Rientrano anche loro, tre grandi elettori, tre per ogni regione, ad eccezione della Valle d'Aosta, che ne esprime uno, che andranno a comporre la rosa dei milleotto grandi elettori. Vediamo in campagna. Contribuiranno all'elezione del nuovo inquilino del Colle il governatore Vincenzo De Luca, il presidente dell'Assemblea regionale, il DEM, Gennaro Liviero, e Anna Rita Patriarca di Forza Italia. Quest'ultima ha scalzato l'Azzurro Stefano Caldoro, capo dell'opposizione, e anche Valeria Ciarambino del Movimento 5 Stelle, entrambi dati in poll alla vigilia. Andiamo avanti, sempre sul quotidiano del Sud, parliamo di vaccini. Piattaforma in tilt per molte ore, impossibile prenotarsi per ricevere la terza dose. In tilt il sistema delle prenotazioni per i vaccini. Molti segnalano che è diventato praticamente impossibile riuscire a prenotarsi, soprattutto se si appartiene alle fasce più giovani della popolazione. Una situazione paradossale, proprio in un momento in cui diventa fondamentale riuscire a vaccinarsi. Ma non è solo questo l'unico problema segnalato. Da più di 24 ore non si può accedere agli open day della città di Salerno. Sembra che in tutti i centri ci sia un sold out generalizzato che impedisce di poter effettuare la prenotazione a Salerno città. Capita così che il salernitano che voglia vaccinarsi può prenotarsi soltanto agli open day di Ancri o Corbara che fino a poche ore fa risultavano gli unici disponibili. Rimaniamo su questa pagina. La denuncia. L'80% dei contagiati non ha provvedimento di isolamento. Ci sono pazienti positivi al Covid che non ricevono alcun provvedimento di isolamento e restano liberi di uscire e di conseguenza di trasmettere l'infezione. A lanciare l'allarme sono i medici di famiglia della FIM di Napoli Vincenzo Schiavo, Ciro Cozzolino, Pietro Di Girolamo e Antonio Sardu che denunciano come il sistema è saltato a causa della mancanza di un automatismo di invio dei documenti di isolamento. E diamo un'occhiata alla prima pagina di Cronache. In apertura De Luca, il patriarca della regione, umilia Caldoro Quirinale il governatore. Si sceglie anche il rappresentante dell'opposizione patriarca e fa eleggere con tre franchi tiratori del centro-destra la figlia dell'ex senatore che fu condannato a nove anni. Sotto la testata la cronaca 33 arresti tra Sanseverino, Eboli e Potenza scommesse il riciclaggio e il capo era Giuseppe Cirillo. Da Sapri ad Angri tutte le iniziative finanziate dalla regione Pioggia di Soldi, Volpe ora un portale. Andiamo sul centro pagina Ex museo del falso quel pasticciaccio del comune assegnò la vendita ma senza il bingolo della soprendendenza il comune perde il ricorso davanti al tar ora spuntano i guai Di taglio basso giornalista, scrittore politico europeo ciao David e poi battipaglia mamme positive al covid due parti eccezionali all'ospedale Salernitana pronta la rivoluzione della squadra per la panchina e il sogno gattuso anno c'era inferiore Capaldo non mi candido per coerenza i miei consigli E termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità diamo la linea alla regia E eccoci tornati in studio riprendiamo la rassegna stampa con la prima pagina del mattino di Salerno In apertura la cronaca le scommesse del clan scacco alla holding del gioco online giro d'affari da 5 miliardi in due anni il capo era Cirillo figlio di un boss dell'Andrangheta i rapporti con i casalesi il sistema business diffuso in mezzo Italia e denaro riciclato nei paradisi fiscali Centropagina Mercato Salernitana il sogno è Perotti Sabatini accordo per sei mesi Fabiani firma la rescissione Di lato la pandemia Covid senza freni 9.720 casi in 24 ore i medici di famiglia niente isolamento contagiati liberi di diffondere l'infezione la scuola ostacoli sciopero alle superiori a casa un alunno su due i genitori hanno paura l'intervista a Cristoforo Salvati qui ha scafati troppi fuori sede resta lo stop alle secondarie un'altra intervista ad Andrea Reale chiudere una scelta dolorosa ma la costiera è in affanno torniamo sul Centropagina con l'intervista Annello Mainente vecchie carceri polo culturale nel centro storico l'allarme quella zona della città è abbandonata senza interventi un'ulteriore desertificazione la sicurezza sosta selvagge succa abusivi tringali in piazza con i vigili urbani di taglio basso l'economia aziende edili e negozi chance assunzioni secondo il dossier di Union Camere segnali di ripresa all'inizio del 2022 questa era la prima pagina andiamo a vedere in primo piano dal territorio Ponte Cagnano Faiano aeroporto costa da Malfice il patto per la legalità no infiltrazioni mafiose venerdì il protocollo d'intesa tra il prefetto e il manager di Gesac per gestire le opere da 134 milioni in procinto di partire allo scalo a Eboli nuovo furto in centro svaliggiata una pizzeria a Ponte Cagnano Faiano un centro per disabili nell'ex disco Camino Real Battipaglia Comune e Asi telecamere in rete per la sicurezza a Pisciotta Bancomat off da un mese 20 km per prelevare 20 km per poter usufruire del servizio Bancomat il sindaco sollecita l'istituto di credito di riferimento per gli opportuni interventi succede a Pisciotta nel paese della fascia costiera cilentana conosciuta anche per gli olivi secolari e le alici di Menai che è il primo cittadino Ettore Liguori scrive alla locale radicata a Banca del Territorio per ribadire i disagi che la sua comunità sta vivendo da tempo a Eboli depuratore coda di volpe presso lo Start la brocca minore impatto e mare pulito Caggiano un bypass di 250 metri lavoro in corso post frana nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici della provincia di Salerno dai sindaci di Caggiano Modesto la mattina e Salvitelli Maria Antonietta Scels e dalla ditta esecutrice lungo la strada provinciale 341 lungo la quale si è registrata una frana un sopralluogo propedeutico in vista degli importanti e imminenti lavori di messa in sicurezza del tratto di strada in località San Francesco e lasciamo con questo il mattino ci spostiamo su cronache in primo piano gli arresti di ieri scommesse illegali e riciclaggio in 33 finiscono in manette seguito un sequestro preventivo di 11 siti web e di due società con sede legale a Mercato San Severino gli introiti in due anni in oltre 5 miliardi di euro e qualora i giochi fossero stati svolti in forma lecita l'erario avrebbe incassato circa 500 milioni al vertice del sodalizio per la procura di Era Luigi Giuseppe Cirillo andiamo avanti da Sapri ad Angri ecco quali sono i progetti finanziabili per la regione contributo ammissibile di 100 mila euro per iniziative turistico culturali è stata pubblicata la graduatoria in merito POC Campania 2014-2020 linea strategica rigenerazione urbana politiche per il turismo e cultura che prevede risorse per complessivi 2 milioni 150 mila euro destinate alla definizione di un programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale naturalistico enogastronomico di portata nazionale ed internazionale qui su cronache tutti i progetti finanziati mamme positive due parti eccezionali all'ospedale di Battipagli i ricoveri avvenuti meno di 24 ore l'uno dall'altro le donne entrambe non vaccinate sono state dimesse già ieri presso il Santa Maria della Speranza percorsi covid in caso d'urgenza andiamo avanti ancora su crona che terra dei fuochi salernitana il comune di Serre parte civile si riaprono le porte del tribunale di Salerno per i 18 imputati e le 6 aziende coinvolte nell'inchiesta per lo smaltimento illecito di rifiuti tutti gli imputati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere aggravata finalizzata allo smaltimento illecito di rifiuti speciali anche pericolosi del tipo ecotossici l'inchiesta che lo scorso febbraio ha portato all'arresto di 14 indagati al sequestro delle aziende oltre che di numerosi mezzi utilizzati per il tombamento dei rifiuti si era conclusa con una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di tutti gli indagati da parte del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Salerno Giancarlo Russo e termina qui la nostra rassegna stampa grazie per essere stati con noi vi auguro buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti